donatella giuliano impariamo dal semplice fiore a diffondere la nostra essenza anno 2024 acrilico su tela centimetri 55 per 45 ogni forma ogni colore ha una propria vibrazione una propria nota comunicativa capace di entrare in risonanza con l'occhio dell'osservatore pronto ad aprirsi ad un ascolto puro vero e profondo donatella nasce a novi ligure la pittura e il disegno hanno sempre fatto parte della sua vita l'hanno nutrita e arricchita professionalmente è una massaggiatrice utilizza le mani per esprimere il suo amore sul corpo e anima di ogni persona portando armonia e benessere allo stesso modo attraverso le mani con colori e pennelli esprime ed imprime la sua passione sulla tela nel 2022 ha frequentato un corso di disegno e pittura e poi prosegue da sola come autodidatta guidata dal suo maestro interiore ascolta le sue emozioni e le guarda attraverso la pittura che crea quest'opera rappresenta e porta con sé una lezione di grande saggezza un fiore non pensa di competere con quello accanto semplicemente fiorisce il suo messaggio parla ai nostri cuori ricordandoci l'importanza di portare la nostra preziosa unicità nel mondo come i petali che si sgretolano diffondendo un po di sé pezzetti della stessa tela fanno parte e prendono parte del dipinto a indicarci come anche noi in questo universo siamo parte del tutto un po di sé pezzetti del tutto